Lo intercetta e perfetto, lo porta sul suo piede sinistro e va benissimo, qui deve aspettare Siete su piede, Moris a terra, calcio di rigore per Haiti Temporeggiare, portarlo ancora verso il fondo, non cercare l'intervento perché se lo sbagli è quasi certo il rigore 0 a 4 nel girone dell'Italia, Haiti intanto accorcia le distanze, su rigore lo fa con Sorel